buonasera a tutti benvenuti ben ritrovati come di consueto al webinar del lunedì come ogni lunedì andiamo a fare una chiacchierata andiamo ad aggiornare un po di grafici insomma ci sono diversi movimenti molto interessanti prima però andiamo a salutare Luca Di Scacciati che è connesso dalla Svizzera ed è anche appena tornato dalle vacanze Luca come stai? Oella eccoci qua ciao a tutti vedo che siamo sempre tantissimi nonostante sia il 22 di luglio ragazzi ma cosa ci fate collegati qua andate al lago al mare solo i pazzi come come noi stanno collegati ai grafici anche durante una giornata come quella di oggi comunque sì sono tornato ho fatto una bella vacanzina di una settimana a Cefalonia una bellissima isola greca che consiglio a tutti quanti perché è davvero molto molto bella e sono bello carico anche perché sono tornato e avevo un bel po' di posizioni che stanno andando dalla parte giusta quindi adesso salutiamo prima Enrico e poi spostiamoci subito sui grafici perché ho voglia di vedere un po' gli aggiornamenti assolutamente quindi buonasera Enrico Lanati che è venuto a trovarmi eh da queste parti qui a Malta farsi un po' di mare ciao Enrico buongiorno a tutti sì anch'io sono sono qui a Malta e tra l'altro appunto con Riccardo stiamo avendo tutta una serie di cose anche legate al suo corso quindi assolutamente ma ne avremo modo di parlarne durante durante il webinar quindi eh partiamo subito con l'analisi dei principali strumenti per dare a tutti voi insomma eh magari delle indicazioni operative bene la ragazzi la primissima cosa che chiedo a Riccardo di vedere è eh Beyond Meat eh sì che ragazzi sta dando davvero delle soddisfazioni incredibili a tutte le persone che mi prendo un pochettino il merito di averlo segnalato dato che è un pochettino tutto anche è un titolo è un titolo sul quale davvero ho scritto tantissimo ho fatto tantissimi interventi tantissimi contenuti e sono davvero contento per tutte quelle persone che avendolo comprato più o meno quando l'ho comprato io stanno facendo oltre il cento per cento quindi so di persone che sono andate anche molto pesanti su questo investimento anche perché appunto avevamo proposto noi eh l'utilizzo della piattaforma di Kimura che permette comunque l'investimento in leva su questo titolo e di conseguenza so che ci sono persone che stanno facendo migliaia di euro mi iscrivete in tanti e io insomma sono contento per voi perché oltre ad avermi ascoltato vuol dire che avete capito il potenziale davvero che ha questa questa azienda che per chi non lo sapesse si occupa di eh produrre degli hamburger che sono fatti di una di di a cento per cento vegetali ma che hanno il sapore della carne vera quindi insomma sono molto contento voglio anche avvisarti Luca che eh anche qui a Malta arrivata beyond e infatti sono andato proprio a assaggiarlo l'altro giorno e devo dire che mi è piaciuto molto e dopo la cena mi sentivo benissimo non ero appesantito come eh solitamente eh quando vado a mangiare un classico hamburger e devo dire che insomma eh mi è piaciuto molto ecco feedback assolutamente positivo bene 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 ottimo porta anche Enrico che quando in genere viene a Malta va a sfondarsi al Burger King portano a mangiare qualcosa di sano che oltre a fargli bene alla salute fa bene poi al nostro portafoglio di investimenti esatto infatti l'ho mangiato infatti essendo anch'io azionista me lo hanno messo nel diciamo appena di fronte al Parlamento quindi è proprio vicinissimo al nostro ufficio quindi possiamo andarci in tre minuti una di questi uno di questi pomeriggi magari andiamo facciamo anche un live che così ve lo facciamo vedere nuovamente però no sono buoni io l'ho provato con te a cipra ai tempi il titolo stava su cento dollari adesso siamo a cento novanta tre cento novanta quattro in quell'intorno lì quindi insomma nel frattempo si è si è raddoppiato no c'è tante tante persone ci hanno scritto alcuni soltanto con l'interesse cioè come faccio a comprarlo come faccio a investire su questo titolo altri invece proprio per ringraziarci perché l'hanno comprato appunto per il tramite delle piattaforme quindi bene insomma secondo me c'è ancora del potenziale cioè il fatto che sia salito così non vuol dire che che si debba fermare anzi assolutamente no infatti stavo giusto per per condividere tramite la chat un l'articolo diciamo quello un po più importante di tutti che che ho fatto che si chiama proprio le azioni della beyond meet sono da comprare proprio perché spiego ho mandato l'articolo in chat chi invece vedrà la registrazione potrà vedere troverà il link di questo articolo in descrizione del video e insomma lì spiego tutti i motivi per cui secondo me questo è un titolo da avere per il lungo termine e sono tutti motivi che insomma credo che eh quando li leggerete eh vi troverete in accordo con me sostanzialmente ed effettivamente da come sta andando il titolo da come si sta comportando il mondo finanziario nei confronti di questo titolo credo che abbiamo beccato davvero il cavallo il cavallo giusto e non è finita perché è sostanzialmente per la portata rivoluzionaria che questo prodotto potrebbe avere su eh lo stile di vita i consumi davvero delle generazioni future siamo di fronte davvero a una nuova potenziale coca cola quindi io sono convinto che a seconda chiaramente delle proprie possibilità e delle proprie tasche questo sia un titolo da avere in portafoglio non è importante comprarlo a 110 120 170 190 o 200 perché l'obiettivo di questo investimento di dell'investimento in questo titolo è fare in modo che questo titolo valga come oggi vale la coca cola piuttosto che titoli magari anche più importanti bene bene ottimo sì anch'io veramente sono molto contento di essere azionista insomma vedremo fino a dove vedremo fino a dove si spingerà insomma questo titolo che negli ultimi nell'ultimo periodo insomma veramente schizzato verso l'alte già e anche oggi insomma abbiamo un bel più nove e mezzo per cento sarà interessante la chiusura ma sembra insomma che i prezzi non non torneranno sotto i 190 però ottimo vediamo ma anche se dovessero tornare la questione secondo me va oltre proprio il prezzo nel breve termine nel senso che questo è il classico è la classica azione che se dovesse crollare e io questo lo dico perché poi l'ho anche fatto nei giorni in cui magari c'erano delle prese di profitto e il titolo crollava letteralmente del 20 per cento è da comprare perché è un un'azienda davvero rivoluzionaria e questa è la classica azienda che tra dieci anni tra vent'anni ci guarderemo indietro diremo cacchio ma come abbiamo fatto a non accorgerci che era un'azienda che era un'azienda rivoluzionaria eh tante persone io ho fatto spesso anche articoli dove parlavo di amazon dicendo che era ovvio che tutto il mondo sarebbe andato a comprare online ma in pochissime hanno comprato i titoli beh ragazzi qui lo dico e sono pronto veramente a battagliare su questo argomento ma le abitudini alimentari degli uomini su questo pianeta degli umani degli esseri umani su questo pianeta devono assolutamente cambiare e eh questa azienda secondo me sarà veramente la nave rompighiaccio che farà in modo che questo possa avvenire quindi forza ragazzi tutti sulla nave rompighiaccio che il viaggio da fare è ancora bello bello lungo ecco qua non sono pagato da beyond meet eh giusto perché mi accorgo che il il mio endorsement nei confronti di questa società è veramente incredibilmente alto bene ragazzi ottimo eh insomma ovviamente poi ci sono tanti anche i ringraziamenti a te Luca giustamente esatto vedo Antonio che dice onore a Luca che ha segnalato beyond meet Alberto che dice anch'io ho preso beyond meet ho guadagnato grazie a te ragazzi io sono solo contento davvero eh sì penso che sei stato ehm sei stato il primo a segnalarlo in Italia o comunque almeno da quello che sì sì assolutamente io benissimo ottimo dai torniamo torniamo sui grafici eh anzi prima di tornare un attimo sui grafici io voglio segnalarvi una cosa eh giovedì la terza lezione del corso completo Ichimoku e Preisecchio innanzitutto voglio ringraziare veramente tutti eh per i feedback che mi state dando nel corso di queste settimane abbiamo fatto già due lezioni ma eh ne mancano altre due e ricordatevi che poi dopo queste eh dopo il corso potrete seguire la mia intera operatività eh all'interno del gruppo Telegram e all'interno eh e ovviamente durante le sessioni di trading con Ichimoku il gruppo Telegram eh voglio ripeterlo voglio eh spiegarlo bene adesso abbiamo già un gruppo Telegram abbiamo Traders Club però all'interno del gruppo Traders Club non condivido eh le operazioni di trading non condivido non faccio gli aggiornamenti di Ichimoku delle delle operazioni che trattiamo alle sessioni di trading con Ichimoku dopo invece andrò ad aggiornare il tutto anche in Traders Club ovviamente però le operazioni le imposteremo alla sessione di trading sempre alla sessione di trading con Ichimoku e poi se è il caso di aggiornare magari qualche stop in profitto stop in pari eccetera aggiornerò il tutto su Traders Club ricordatevi quindi che se poi acquistate il corso avete un mese gratuito di Traders Club e di trading con Ichimoku vi mando il link assolutamente del corso eh completo Ichimoku e Price Action ve lo giro subito ecco qui in chat ve l'ho appena mandato visto che me lo avete chiesto cosa vedremo alla eh durante la terza lezione eh si vede qui allora come unire lo studio della Price Action alla strategia Ichimoku quindi nella prima lezione abbiamo affrontato il tema eh della Price Action nella lezione numero due abbiamo visto come Ichimoku eh aiuta eh lo studio della Price Action e da un enorme enorme supporto e insomma nel eh nella terza lezione vedremo come unire le due cose eh e il punto a mio avviso più importante è anche eh questo money management e gestione del rischio perché insomma sappiamo tutti che senza una corretta gestione non si va da nessuna parte bene dopo questa breve marchettata per qualsiasi info ovviamente scriveteci o scrivete anche a me noi siamo qui eh direi che possiamo andare ho sentito ottime cose eh sul tuo corso sono davvero contento perché ho avuto davvero dei feedback e mi è capitato di parlare anche con delle persone appunto in in questi giorni via social networks che stavano facendo il corso e mi hanno detto che è davvero molto molto bello e questa idea che hai avuto di fare un percorso davvero è è ottima proprio perché spesso e volentieri quando uno fa un corso sembra tutto bello poi dal giorno dopo è lì da solo e perde magari un po' di motivazione invece così per chi davvero si vuole sbattere ci sarai tu che continui a martellare fino a che appunto i concetti non entrano in testa esattamente esattamente saranno molto importanti infatti anche le successive sessioni di trading con Inzimaco perché andrete proprio a vedere come vado a ragionare come hai detto tu Luca una volta che hai fatto il corso non è automatico subito apprendere tutti i concetti tutta insomma la strategia completa e fare trading ed essere profitevoli quindi mi è piaciuta molto insomma l'ho proposta è stata anzi me l'hanno chiesta mi hanno chiesto ma facciamo un percorso facciamo un gruppo telegram ho detto sì dai ci sto lavorando insomma ci abbiamo messo tanto il corso devo dire sì è lungo perché comunque sono ben quattro lezioni da due ore quindi serve un po' di pazienza però insomma se vogliamo fare le cose fatte bene insomma serve tempo sarà un bel percorso ne sono convinto bene andiamo a vedere un po' di grafica abbiamo parlato di beyond cosa andiamo a vedere ovviamente fate tutte le domande proponete quello che volete 194 il titolo così per 94 e tu l'avevi segnalato Luca giusto per ricordarmi ma guarda io ce l'avevo segnalato addirittura c'è lo conosco questo prodotto da da pre ipo ma da mesi prima della ipo perché essendo io vegano seguo molto l'industria anche dei prodotti vegani però poi mi pare che il primo articolo fosse no è la prima cosa che abbiamo fatto è stata è stata pubblicare il il video se non sbaglio quello a cipro quindi guarda il quando abbiamo fatto il video rom intorno ai 90 dollari più o meno il 4 giugno comunque il 4 giugno uscito il video non vi sento più è qui no no ci siamo ci siamo e quindi no no praticamente quando quando è uscito il video rom intorno ai 90 dollari quindi sicuramente sicuramente interessante per tornare al al corso di riccardo se vi interessa ci sono degli articoli dove proprio si vedono i commenti degli operatori tra l'altro stavamo vedendo come riccardo sia cresciuto negli ultimi mesi negli ultimi nell'ultimo semestre infatti anche chi è abbonato al servizio trading con i cimoco e traders club insomma sta performando piuttosto bene abbiamo ricevuto dei dei feedback su questo io partirei con euro dollaro se è possibile così almeno cerchiamo di far qualche analisi anche su sulle valute assolutamente sì vi ho appena inviato in chat il l'articolo come è andata la seconda lezione del corso perché è andata veramente molto molto bene allora euro dollaro dicevamo la registrazione lo trova nel nel link trova il link dell'articolo in descrizione del video euro dollaro eccoci qua allora vediamo la mia view sono short da 1 12 80 scusate sono short da 1 12 e 80 sono anche stato forse un po fortunato perché l'ha beccato proprio al millimetro ho già raggiunto il mio primo target qui in area 1 12 10 1 12 e 20 ho portato lo stop in profitto intorno a area 1 12 e 45 1 12 e 50 cosa succederà adesso allora la situazione non mi è chiara quello che vedo io facciamo un possibile scenario un attimo che prendo però il pennino eccoci qua io vedo una cosa del genere anzi mi aspetto una cosa del genere proprio per questo che sono short da 1 12 e 80 no ok quindi io vedo un impulso un ritracciamento e quindi adesso mi aspetto comunque spero anche in una continuazione dell'impulso andando quindi ad aggiornare i minimi non semplice questo non è ovviamente non è ovvio questo scenario però insomma punto a un target finale andiamo a vederlo eccolo qui intorno area cos'è 1 11 e 20 però abbiamo un supporto importante una zona supportiva abbastanza importante questa qui eccoci qui tutta la zona che va da 1 11 e 90 1 e 12 stiamo parlando di una zona supportiva molto piccola però insomma guardate quante volte ha funzionato nell'ultimo periodo la mia view è questa qui con il target finale lo vediamo lo vediamo eccoci qui 1 11 e 20 guarda io devo dire devo dire che sull'euro dollaro avevo impostato delle operazioni a rialzo che sono andate in profitto di veramente qualche decina di pips poi sono tornate giù insomma non è successo niente fino a che poi è cambiato completamente il sentiment infatti se vai a vedere il sentiment il quando mi ero messo in posizione long erano tutti short e proprio negli ultimi giorni della mia vacanza il sentiment è si è ribaltato e infatti ho chiuso la mia posizione e sono indeciso sul da farsi perché il tuo ingresso è davvero ottimo tra l'altro sei entrato sulla spalla destra di un test spalle ribassista e quindi sì mi piace mi piace la tua operazione molto non so cioè di base c'è sono rialzista di lungo termine però non si sblocca la situazione magari enrico dal punto di vista macroeconomico ci può dare qualche informazione in più come mai l'euro dollaro è così incagliato allora i motivi sono diversi e sono tutti legati all'interpretazione che le persone stanno cercando di dare da quello che sono le le dichiarazioni che arrivano dai membri della fed oggi euro dollaro è guidato secondo me prevalentemente dalle dichiarazioni della fed più che da quelle della bce quindi è più dollaro che si rafforza dollaro che si indebolisce piuttosto che euro che si rafforza euro che si indebolisce la verità è che c'è una situazione di paradosso perché l'ultima dichiarazione del governatore della fed di new york diceva di una possibilità di un taglio dei tassi di interesse che dovrebbe svalutare il dollaro quindi euro dollaro che va verso l'alto per dirla in maniera molto semplice quanto prima quindi in realtà nella prossima riunione di luglio la verità è che questa questa cosa è difficile perché non è prevista la diciamo il discorso da parte del governatore di conseguenza di solito queste cose vanno a settembre o a dicembre quindi al momento gli operatori sono un pochettino sul chi va là e se infatti ci fai caso euro dollaro è vero che sta disegnando queste figure però la verità è che si muove all'interno di un range di un centinaio di pip da diverse settimane insomma quindi a parte qualche movimento particolarmente pronunciato però di fatto si trova in questa situazione io ritengo che sotto 1 e 12 sia da comprare quindi io sto aspettando che rompa il livello di 1 e 12 per provare a posizionarmi al rialzo sulle aspettative di un taglio dei tassi di interesse quindi l'idea al momento è questa staremo a vedere perché in realtà sarei quindi posizionato come tutti gli altri trader ma non è detto che magari dovesse rompere 1 e 12 tutti trader non si posizionerebbero nuovamente short a quel punto mi metterei long quindi l'idea operativa è voglio andare long aspetto che rompa 1 e 12 quindi a 1 11 80 mi metto long e vedo che cosa succede stop in macchina abbastanza stretti vediamo cosa succede nei prossimi meeting della fed bene ottimo passiamo a allora è stato chiesto audi cad e gbp usd io direi che andiamo a vedere un gbp usd l'ho trattato negli ultimi giorni andiamo subito a prenderlo allora gbp usd eccolo qua allora indicatori un attimo che innanzitutto andiamo a mettere un time frame giornaliero eccoci qui l'indicatore cimoculo lo leviamo per un secondo no scusate eccoci qui indicatori no lista degli oggetti indicatori cimoculo leviamo un attimo allora come sapete io vado sempre a studiare il trend quindi siamo dove qui mi sembra abbastanza palese siamo mi sembra abbastanza semplice no siamo all'interno di un trend ribassista con massimi e minimi decrescenti quindi successivamente vado a trovare quelli che secondo me sono degli ottimi delle ottime resistenze visto che siamo all'interno di un trend ribassista io avevo individuato 1 e 25 non so se ve lo ricordate ho detto short da 1 e 25 poi purtroppo non l'ho più fatto però la mia idea era short da 1 e 25 con stop alla chiusura dei prezzi su time frame giornaliero perché io opero sempre e solo in chiusura al di sopra di 1 e 25 e 60 questa questo è un trade che sta andando bene io non sono ancora entrato però se dovesse fare un altro ritracciamento entrerei da dove ve lo indico subito vediamo se torna se torna nuovamente qui in area 1 e 25 e 30 magari un po di volatilità nei prossimi giorni io entro short sempre con stop alla chiusura dei prezzi sopra 1 e 25 no forse ho sbagliato prima ho detto e 60 invece è 1 e 25 e 80 questa è la mia view come sempre il mio primo target lo mettiamo qui quindi sui minimi precedenti in area 1 e 24 e poi lasciamo correre vediamo fino a dove può dove può arrivare questa è la mia view su gbp usd voi cosa dite Enrico ti lascio allora io spero che Riccardo si sbagli perché in realtà io ritengo che la sterlina sia arrivata su dei livelli molto interessanti per essere acquistata e di conseguenza io sono più per una una possibile inversione di trend adesso abbiamo visto un minimo poi c'è stata una ripartenza un ritracciamento questo potrebbe essere una piccola spalla per poi non avere una ripartenza importante quindi a livello di rapporti rischio rendimento mi posso posizionare long con uno stop stretto nell'ordine di una sessantina settantina di pip cercando di andare a ottenere un rendimento invece di oltre 200 pips perché ci può stare tranquillamente cioè se se gbp usd va a rompere il livello di 1 25 80 1 25 90 secondo me può andare abbastanza rapidamente in area 1 e 27 tanto più che io mi aspetto un mi aspetto una debolezza del dollaro nelle prossime settimane Trump lo ha detto chiaramente ha detto ragazzi qua il dollaro deve essere svalutato sta facendo mobbing su diciamo tutti diciamo sulla federal reserve per che sebbene diciamo sia un un organismo indipendente però di fatto c'è un'influenza abbastanza rilevante da parte del presidente degli stati uniti e quindi in realtà in questo momento io mi aspetto che faranno di tutto per svalutare il dollaro americano quindi io provo un long e secondo me una volta rotto 1 e 26 va su anche abbastanza con forza quindi secondo me i rapporti rischio rendimento ci stanno tutti quindi sì alla fine sono d'accordo se il prezzo se i prezzi superano gli 1 e 26 ci sta poi un rialzo vedo un'altra resistenza molto interessante in area 1 27 e 50 però insomma io come sempre vado a fare i miei ragionamenti giorno dopo giorno quindi se il prezzo poi chiude sopra 1 e 26 allora vado long magari entro long anch'io ovviamente studiando le candlestick giorno dopo giorno che è proprio quello che sto cercando di sono tutti i concetti che sto cercando di trasmettere durante il corso completo ichimoku the price action se luca non hai niente da aggiungere noi andiamo perché guarda qui ti dico la maggior parte dei trader è long il trend è palesemente short cioè qui c'è veramente poco da fare secondo me cioè non è un grafico che non dà nessuno spunto diverso da quello di seguire la tendenza a mio avviso esatto bene andiamo a vedere un cambio che sto tenendo d'occhio ne ho parlato un po' anche questa mattina durante la rubrica caffè mercati però voglio andare a vederlo sto parlando di audi usd cambio che mi piace molto lo seguo ovviamente anche questo ogni giorno e che cosa noto noto insomma un po' di forza su questo cambio soprattutto negli ultimi giorni guardate che candeloni importanti al rialzo con questi con questa bella rottura quindi qui c'è stata una rottura importante con una candela di forza ovviamente quindi ad ogni ritracciamento io mi posizionerò long ovviamente bisogna sempre andare ad individuare i livelli più interessanti qual è il livello che più mi interessa scusate 0 questo qui che vedete qui 0 70 e 22 possiamo anche alzarlo lievemente 0 70 e 25 è proprio qui proprio da qui che mi posizionerò al rialzo stop loss target price beh stop loss se il prezzo chiude chiuderà al di sotto di questo candelone perché se questo è il candelone che secondo me ha dato forza al trend allora se i prezzi tornano nuovamente di sotto di quel minimo che a mio avviso può funzionare molto bene da supporto ed è per questo che lo uso come linea guida per il mio stop loss beh allora non è il caso poi di continuare a rimanere in posizione e quindi uscirò stop molto stretto target non ancora definita perché voglio un attimo capire quando ci sarà la fine di questo mini ritracciamento che notiamo adesso un attimo che lo sposto qui eccoci qui bene quando poi io individuo l'impulso poi quando individuo anche la fine del ritracciamento allora calcolo gli obiettivi anche questo argomento che tratto al corso questa è la mia view su Audi USD ragazzi sì io sono d'accordo con Riccardo secondo me il trade che ha selezionato è assolutamente corretto quindi sono per questo tipo di operatività attendo il livello che ha individuato vado long stop stretto target sopra i massimi precedenti in area circa 0 71 quindi mi sembra un trade abbastanza diciamo che ha senso quindi quando io ho fatto il mio corso fare trading con la testa questo era veramente il classico trade che che stava in piedi proprio a livello di tutto a livello di rapporti rischio rendimento a livello di trend che ne ultimamente pare rialzista sulla livello macro perché il dollaro siamo pensati a pensarlo verso una direzione di svalutazione quindi di fatto questo mi piace quindi sono assolutamente d'accordo tra l'altro vedo che sono quasi tutti c'è più posizionamento short quindi diciamo che in questo caso torna tutto quindi mi mi piace assolutamente questo grafico infatti è molto diverso dal grafico del GBP USD che abbiamo visto prima dove proprio non ci sono spunti per andare alla ricerca di un'inversione qua invece insomma già da diverse settimane abbiamo massimi e minimi crescenti abbiamo delle belle candele delle belle ombre che si formano sui minimi insomma sui minimi e sui massimi quindi un trend sano quindi posizionarsi a rialzo in questo trend sano sicuramente sensato giustamente dopo qualche giorno di ritracciamento entrare quindi in un momento dove c'è un trend di breve e ribasso ma in un in uno strumento finanziario che è caratterizzato da un trend di medio lungo termine rialzo correttissimo quindi sono d'accordissimo con questa vision bravo riccardo grazie voglio inoltre voglio inoltre segnalarvi un primo obiettivo che l'ho visto proprio in questo momento e l'ho già anche evidenziato 0 71 sicuramente un livello che il mercato sentirà non sicuramente ma secondo me sì per quale motivo molto semplice perché questa bella candelona ha rotto con forza guardate ha rotto con forza i minimi precedenti qui vedete e poi da qui è nato un nuovo trend ribassista quindi quando io individuo candele di questo genere vado anche a segnarmi i massimi e i minimi di queste super candelone perché insomma questi massimi e minimi funzionano da resistenza e o barra supporto ecco non sempre però insomma vado al vado sempre alla ricerca di queste candele importanti andando poi ovviamente a studiare tutto il contesto generale quindi primo obiettivo 0 71 poi obiettivo finale lo vedo bello qui guardate qui dove questa spinning top o doji chiamatela come volete comunque candela con ombre molto ampia e corpo piccolo ha decretato la fine del trend precedente che era rialzista e quindi andiamo anche a tracciare questo livello anzi spostiamo qui guardate 1 71 80 finale ci siamo bel 3 di questo qua senti posso fare una richiesta io certo mi metti il grafico di eurofranco che è quello che mi sta dando più soddisfazioni in questi in questi giorni assolutamente sì andiamo a prenderlo subito dove dove è un'usante tutta allora ragazzi fai vedere il sentiment qua per favore io tengo d'occhio questo cambio praticamente tutti i giorni perché vivendo in svizzera e comunque avendo tanti interessi in italia mi capita spesso di spendere i miei euro sostanzialmente quindi tengo d'occhio questo cambio ragazzi è una vita e mezza che tutti sono long su questo cambio ed è una vita e mezza che io faccio soldi short su questo cambio io non so più come dirvelo questa roba qua 93 per cento dei trader sono short anche qui chiaramente entrare adesso perché chiaramente adesso arrivano le domande ma è ancora il momento sì è ancora il momento però cioè non è il momento perfetto però guardate come si sviluppano i trend movimento impulsivo verso il basso ritracciamento quando è il momento di entrare il momento di entrare quando sembra che stia ripartendo verso l'alto quindi guarda per esempio a maggio guarda per esempio a ecco lì guarda quel candelone lì sembra che stia ripartendo verso l'alto perfetto quello è il momento giusto per entrare guarda per esempio a fine giugno a fine giugno che c'è il candelone eccolo lì perfetto quello è il momento per entrare e poi bisogna gustarsi e godersi i movimenti appunto veloci verso il basso che vanno contro sostanzialmente le posizioni di tutti ecco io voglio farvi notare una cosa molto importante e qui si vede bene e qui possiamo andarla a vedere allora fermi tutti eccomi qua io cosa ho detto prima andiamo ad individuare le candele ad alta volatilità che rompono minimi o comunque supporti resistenze o minimi precedenti guardate questo qua che bell'esempio candela questa qui un attimo che prendo il pennino che rompe i minimi precedenti con molta forza minimi e massimi possono essere utili siamo in un trend ribassista quindi andiamo a cercare delle resistenze qui io una cosa che avevo anche impostato un ordine solo che l'ho fatto troppo tardi però i miei ragionamenti sono sempre gli stessi short da qui si poteva fare benissimo guardate candela che ha rotto con forza andiamo ad individuare la resistenza insomma questo sarebbe stato un bel trade attenzione perché a mio avviso di occasioni ce ne sono ancora facciamo lo stesso ragionamento facciamo lo stesso ragionamento ieri no questo è venerdì scusate rottura con forza dei minimi precedenti in più abbiamo anche il minimo del candelone che abbiamo appena commentato quindi sappiamo abbiamo diverse informazioni riusciamo tranquillamente a trovare anche una fascia di prezzo dove posizionarsi al ribasso ed ecco qui quindi la prima resistenza che potrebbe essere utile ed ecco qui la seconda quindi abbiamo una fascia perché la seconda è qui perché è il massimo della candela che ha rotto con forza i minimi precedenti quindi semplicemente tac dov'è short da 1,1070 facciamo o anche da un po più in basso perché adesso vi spiego quello stop qual è anche da 1,1055 bene short da qui stop alla chiusura dei pretzel di sopra del livello di 1,1083 che è il massimo della candela che abbiamo appena commentato poi quando ovviamente capiremo anche se sarà la fine del ritracciamento allora andremo a calcolare i nostri i nostri obiettivi giuseppe dice sarebbe da entrare adesso io adesso invece non entrerei proprio perché attenderei il ritracciamento come entrare adesso si entra sicuramente si faranno delle giornate di sofferenza a meno che proprio non venga giù di brutto però chiaramente il fatto sperare nel fatto che il prezzo venga giù di brutto è sbagliato bisogna fare delle operazioni che poi sono consistenti e ripetibili nel tempo riccardo ultimi due minuti prima di salutarci cosa ci fai vedere facci vedere qualcosa di interessante allora io voglio farvi vedere il dax perché dobbiamo parlare un attimo di questo quello che è successo negli ultimi giorni allora dopo il corso un utente ha scritto un articolo sul dax dicendo che si metteva short perché insomma in base a quello che abbiamo studiato al corso qua c'è un'occasione short e io mi metto short quindi complimenti a Mario che è entrato short io non sono riuscito ad entrare però adesso faccio un piccolo ragionamento allora qual è il ragionamento che io avevo fatto beh trend rialzista lo si nota benissimo quindi sul ritracciamento sono andato a posizionarmi long da qui siamo entrati a 12.300 l'ho scritto anche in traders club e quindi ero entrato long da qui poi che cosa ho visto però che insomma io cosa pensavo qui a una continuazione dell'impulso no solo che poi ho visto una candela di indecisione questa candela mi ha messo in allerta di conseguenza ho spostato lo stop in profitto Mario invece cosa aveva fatto ha scritto l'articolo aveva individuato questo impulso e questo ritracciamento e è stato più bravo è stato bravo e quindi si è posizionato short adesso non mi ricordo bene da che da che livello però insomma complimenti evidentemente ho spiegato bene perché sono completamente d'accordo e ringrazio anche lui per avermelo fatto notare insomma questo bel impulso di bassista perché ho fatto un piccolo errore perché non ho non ho studiato bene questo ritracciamento questo insomma nel trend rialzista avete mai visto un ritracciamento così importante no di conseguenza questo poteva tranquillamente essere un primo segnale di inversione confermato poi da questa candela di indecisione che poi insomma ha contribuito a creare questo mini trend ribassista ora che succederà io mi posiziono un ordine short a 12.350 che non mi è stato preso per poco però insomma la mia view è short con target 12.000 però staremo a vedere ottimo direi che anche per questo webinar del lunedì ci siamo nel mentre mentre stiamo parlando beyond meet arriva a 197 dollari per azione benissimo molto bene più 11 e 43 per cento siamo molto contenti e bene ragazzi per qualsiasi cosa se avete bisogno di informazioni avete bisogno di supporto info chioccio a investire punto viz siamo a disposizione per aiutarvi riccardo lascio a te la conclusione del webinar ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti per aver partecipato anche quest'oggi buonasera i ligolanati sì io volevo aggiungere solo un'ultima cosa molto molto importante se avete intenzione di attivare un conto con il broker kimura trading fatelo in fretta in quanto abbiamo andato in chat la promozione che abbiamo attiva fino al 31 di luglio che è molto molto interessante perché potrete ricevere il corso di riccardo quello vincere nel trading intraday è un corso che oggi ha una ha un costo un valore di 300 euro quindi chi fosse diciamo indeciso io gli consiglio di farlo adesso mi raccomando il broker è stato tassativo il conto deve essere finanziato entro il 31 di luglio quindi bisogna muoversi insomma bisogna bisogna darsi da fare abbiamo meno di dieci giorni io con questo vi saluto e niente vi auguro un ottimo trading e insomma venite a trovarci sulle pagine di investire punto viz buona serata a tutti ciao ciao buon trading diretto Grazie a tutti.